Ciao a tutti, oggi vedremo come si muove un personaggio. Prima di tutto vorrei che capiste che le posizioni sullo schermo di un qualsiasi sprite sono riconoscibili perché hanno una posizione sull'asse delle X, che è questo orizzontale, e una posizione sull'asse delle Y. Per visualizzare meglio basta andarci a cercare lo sfondo appropriato. Lo trovate in fondo e c'è XY grid, quindi la griglia. Vedete, all'incirca si va da 0 a 240 e a meno 240 sull'asse delle X e da 0 a 180 sull'asse delle Y. Questo perché lo schermo, lo stage di Scratch, non è nient'altro che un vecchio schermo a 4 terzi e non a 16 noni come il Full HD. All'incirca vedete che il centro del mio personaggio, in questo caso del gatto, è a posizione X0 e Y0. Se io lo sposto, nel quadrante delle informazioni mi verrà indicata la nuova posizione. In questo caso X-113 perché è nella zona a sinistra e quindi con le X negative e Y-86 perché è nella zona in basso e quindi con le Y negative. Ogni volta che posiziono il mio sprite in un luogo dello stage, i comandi ereditano automaticamente la posizione in cui si trova in quel momento. Quindi adesso che è in X-123, Y-54, ecco qua che il comando vai a XY mi eredita la stessa posizione. Poniamo che io debba spostare il personaggio da un lato dello schermo e lo voglia far scivolare al centro. Non mi resta che trascinarlo per verificare all'incirca la posizione. Vedete? Meno 263, meno 100. In realtà non posso trascinarlo più in là di una certa posizione, ma posso scrivere la posizione che intendo fargli raggiungere. Ad esempio, meno 280. Vedete? Purtroppo oltre meno 273 non mi fa andare. Ricordate che tutte le programmazioni vanno iniziate con quando si clicca su bandierina, che trovo nella categoria di blocchi situazioni. Ingrandisco un po' per far vedere meglio. Devo dire al mio sprite di mostrarsi, lo trovo nei blocchi aspetto. Devo dirgli di ereditare questa posizione iniziale. Vai a x, meno 273, y, meno 100. E poi poniamo che lo voglia far scivolare al centro dello schermo. Me lo trascino nella posizione in cui voglio che arrivi. Ad esempio, x, meno 35. Per fargli mantenere un'andatura lineare, la posizione sull'asse delle y deve rimanere identica. Se partiva da meno 100, lo farò arrivare a meno 100. Ecco che anche il comando scivola eredita la posizione in cui ho messo il gatto. E quindi gli posso dire scivola in un secondi a meno 35, meno 100. Lo posso far scivolare in tre secondi e verificare il movimento. Una volta che è arrivato a destinazione, posso fargli pronunciare anche una battuta di dialogo. Lo trovo sempre nella categoria aspetto, cioè dire per alcuni secondi oppure dire e basta. Gli facciamo pronunciare la battuta ciao per due secondi. Ecco il risultato. Dopo due secondi la nuvoletta svanisce. Pogniamo di volerlo far interagire con un altro personaggio. Mi scelgo un nuovo sprite, ad esempio lo scarafaggio. Posiziono il mio scarafaggio all'estremo opposto dello schermo. Vedete in questo caso è x267. Provo a mandarlo a 280. Il massimo mi dice che è 267. In questo caso, quando il gatto si mostra, voglio che il mio scarafaggio non sia ancora visibile. E quindi dirò situazioni. Quando clicco su bandierina, in aspetto voglio che il mio scarafaggio si nasconda. Per dare le tempistiche ai diversi personaggi, posso usare un comando particolare. E lo trovo in situazioni. Invia tutti un messaggio. Quindi farò inviare dal gatto il messaggio party. Come vedete posso indicare un nuovo nome. E dirò al mio scarafaggio che all'inizio della programmazione, quando clicco su bandierina, si è nascosto. Che quando riceverà il messaggio party, dovrà mostrarsi. Naturalmente non gli avevo ancora detto in che posizione iniziale deve trovarsi. E posso dirglielo già all'inizio. Quindi all'inizio, quando clicco su bandierina, lo porto in questa posizione iniziale e lo nascondo. Mentre quando riceverà party, dovrà scivolare verso il gatto. Anche in questo caso partiva da y-117. Per fare in modo che il suo scivolamento sia lineare senza scatti, dovrà arrivare a meno 117. Uso il comando scivola. Questa volta in due secondi perché deve fare meno strada. E al termine gli farò pronunciare una battuta. Ciao, come stai? Vediamo il risultato. Prima parte il gatto, lo scarafaggio è sparito. Dopo i due secondi della battuta, lo scarafaggio si mostra, parte, arriva e risponde. C'è ancora un problema. Lo scarafaggio sta viaggiando al contrario. C'è un modo per modificare l'orientamento? Beh, ce ne sono diversi. Il primo è più semplice, è dare una direzione al mio sprite. Esiste in movimento un punta in direzione. Quindi posso dire al mio scarafaggio di puntare in una direzione che in questo caso sarà verso sinistra, meno 90. Vediamo se funziona. Perfetto, ha funzionato. Con determinati sprite, soprattutto se cercati su internet, probabilmente non funziona il punta in direzione. Possiamo quindi fare in un altro modo, ovvero selezionando il nostro sprite, possiamo andare in costumi e dopo aver selezionato tutto il disegno, possiamo usare questo rifletti in orizzontale. Ed ecco che il nostro scarafaggio è già orientato, anche senza puntarlo, in direzione. Naturalmente posso poi sostituire lo sfondo con uno sfondo più adeguato e quindi seleziono un altro sfondo ad esempio una bellissima spiaggia di Rio ed ecco il risultato finale. Ciao a tutti e alla prossima!